L'abbiamo definito il più grande concerto lirico dell'estate. È auspicabile che sia così, anche perché l'impegno dell'amministrazione è importante, però come dicevo in conferenza stampa, noi crediamo anche a un turismo culturale e quindi anno dopo anno stiamo investendo sempre di più in questo settore. Ovviamente provano le piazze con tutte le sculture e quindi quando ci hanno proposto questo evento il dottor Carlo Bramezza abbiamo aderito perché è un esperimento che per noi, ma ho sentito gli artisti che io non conosco, salvo qualcuno così per nome, ma non direttamente personalmente e io credo che sarà sicuramente un'esperienza positiva e quindi da coltivare. Quindi concerto lirico, poi ci sarà un'esposizione di vestiti, un'esposizione di culture, è anche un po' una novità per Jesolo la lirica, no? Sì, come dicevo è una cosa nuova e quindi mi fa piacere sentire dire che è un'esperienza quasi unica nel Veneto per quest'estate, ovviamente non sarà paragonabile all'Arena di Verona, però purtroppo non abbiamo una struttura simile, però abbiamo le nostre piazze e questo nuovo posto del frontemare dell'ospedale potrebbe essere una location che va bene. L'ospedale di Jesolo, spiaggia l'ospedale di Jesolo, da sempre un luogo simbolo dell'inclusione sociale, adesso arriva un altro evento, la musica e la cultura per l'inclusione sociale. Un altro grande evento che è collegato alla disabilità, a tutto il percorso che abbiamo fatto in questi anni, proprio partendo da Jesolo, sull'accoglienza, sull'accessibilità, sull'inclusione. Quest'anno, grazie all'associazione Il Melograno, organizzeremo questo grande concerto di musica lirica, proprio in spiaggia, nel nostro ospedale. Sarà un concerto dedicato a Puccini, quindi agli anni 20, che sono gli anni di costruzione del nostro ospedale, e quindi sarà una grande festa per tutti, passeremo una bellissima serata. Data e ora? L'11 luglio, giovedì, dalle 9 di sera in poi. Quindi, nella brezza, diciamo così, serale, ascolteremo questo grandissimo concerto. Sarà l'occasione per i 600 persone che staranno all'interno del territorio, del terreno, diciamo così, ospedaliero, ma anche per quelle che saranno in spiaggia, passeranno per la spiaggia, di sentire un'ottima musica di grandi lirici. Jesolo è nota per città di eventi, di divertimento, ma c'è anche della cultura, e la cultura che passa anche per la lirica, in questo caso. È un po' una novità per Jesolo, no? Un concerto lirico. Beh, a dire il vero, anche lo scorso anno abbiamo avuto l'occasione, l'opportunità, di avere un concerto lirico in un ambiente abbastanza unico, che è quello della zona delle Antiche Mura. Però questo è un concerto che ha una dimensione e un'immagine che è assolutamente di altissimo livello, di alto profilo, che va oltre qualsiasi tipo di manifestazione culturale, perché ha in maniera intrinseca degli aspetti che sono unici. Prima di tutto l'idea dell'inclusività, la capacità di andare oltre i confini, oltre le frontiere del mondo quotidiano, l'attenzione verso i diversamente abili e un concerto che, a mio modo di vedere, rimarrà assolutamente nella storia. E un plauso va fatto alla squadra anche con il direttore Bramezza, che effettivamente ha avuto questa intuizione che noi abbiamo cavalcato con grande entusiasmo, sia sotto il punto di vista economico, ma anche sotto il punto di vista proprio dell'entusiasmo da parte della città. Marco Gandini, regista di questo evento, selezionatore del cast delle aree di Puccini, ci sintetizza e ci spiega un po' chi saranno i cantanti e che cosa sentiremo. Sono sette artisti lirici, bravissimi, e abbiamo cercato un buon equilibrio tra grandi star, anche un po' esperte e altre giovani stelle che sono tutti italiani e sono italiani che cantano in Italia nei nostri teatri importanti, il Teatro La Scala, il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro La Fenice e nel mondo, il Metropolitano Opera House, Bolshe di Mosca, quindi sono veramente una presenza importantissima. Abbiamo scelto due corde particolari, quindi la corda del tenore e la corda del soprano, perché Puccini for Love, appunto scritto per duetti d'amore, sono a differenza un po' di verdi, in Puccini manca un pochino la corda del baritono, del basso, del mezzo soprano, è proprio l'amore del tenore e del soprano e quindi abbiamo quattro soprano e tre tenori bravissimi. Poi c'è la presenza di Cheryl Porter, che è un artista soul con origine classica, lei cantava la lirica e quindi ci offrirà due pezzi, uno classico cantato swing e uno swing cantato lirico, quindi sarà un bel connubio. E la presenza di un pianista eccezionale, veramente, è una giovane stella, adesso esce con il prossimo disco, con l'etichetta francese, è un pianista non vedente che crea delle atmosfere e suggestioni meravigliose. Quindi è un omaggio a Puccini, prediligendo il Puccini degli anni 18-20 vicino alla nascita dell'ospedale di Jesolo e poi anche un omaggio a Bernstein che si avvicina a questa atmosfera anni 20 e swing e poi anche l'anno prossimo c'è anniversario della morte del maestro Leonard Bernstein e nel 18 era invece la nascita, quindi è proprio vicino. E quindi ho pensato che Bernstein e Puccini stavano ben assieme nella spiaggia in una serata marina di musica. Possiamo dire che anche la selezione di brani è fatta apposta per uno spettacolo che è fronte spiaggia? Ma diciamo di sì perché sono brani passionali delle opere liriche però c'è anche per esempio la rondine, la rondine è ambientata sulla Côte d'Azur in Francia e quindi c'è l'ambientazione marina. E poi anche un po' qualcosa di esotico con Turandot e poi Manon Lescaux e Gianni Schicchi e quindi rappresenta... però sono melodie che sono fruibili in una serata estiva. E poi abbiamo anche inserito la canzone classica italiana per intenderci quelle che poi anche Luciano Pavarotti cantava con tanta bellezza e quindi i tenori saranno molto contenti di cantare queste bellissime canzoni che sono quelle di Tosti, insomma canzoni importanti, classiche italiane e proprio sempre anche comunque di quegli anni. Musica diceva, ha detto, è un linguaggio universale. Sì, la musica lirica in particolare è un linguaggio universale. È, come dicevo io, l'esperanto dei popoli perché il linguaggio che si usa nella musica lirica è quello italiano. Quindi è sinonimo anche di inclusione, inclusione sociale a tutti gli effetti sia fra persone disabili e neuromodotate ma anche fra persone e basta. Voi avete... siete sempre in prima linea sull'inclusione sociale. Questo è un ennesimo evento che è anche un po' una nuova sperimentazione, la musica per l'inclusione sociale che vi vede protagonisti ancora una volta. Sì, ecco, noi organizziamo parecchi eventi che hanno a tema proprio l'inclusione sociale ma privilegiamo proprio quegli eventi dove c'è un'interazione, una sinergia fra le persone disabili e le persone normodotate. Perché? Perché la disabilità non deve essere vista come un limite ma come un'opportunità e spesso lo è davvero. Noi come Comitato Melograno contiamo a un momento sei associazioni che sono un po' in tutto il territorio Veneto, a Treviso, a Venezia, a Vicenza e a Padova. Presto ne avremo anche altre due che si uniranno a noi. E il tutto, tutta la nostra attività viene coordinata tramite una sala multimediale che noi chiamiamo sala multimediale Melograno che è attrezzata per poter, affinché tutte le persone con qualunque tipo di disabilità possano interagire con gli strumenti tecnologici, i computer e quant'altro. Formiamo anche le persone e ci rivolgiamo a delle disabilità, come detto, di tutti i tipi ma anche di tutte le generazioni perché offriamo i nostri servizi ai bambini, agli adulti e anche alle persone anziane, ma che noi preferiamo chiamare senior perché anziani non sempre è gradito. Infatti facciamo parecchi corsi formativi. Questa grande opportunità che ci è stata offerta grazie agli enti istituzionali e al dottor Barmessa, direttore dell'Ulsa 4, è un'opportunità che non mancheremo di sfruttare a pieno per dare il massimo di noi stessi e soprattutto perché vorremmo che diventasse un appuntamento annuale da ripetere.